ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video io sono daniele e faccio l'apicoltore in questo video volevo parlarvi del libro che ho appena letto che è questo la selezione delle api di padre adam vi faccio questa nuova rubrica delle recensioni dei libri che leggerò voi sapete che la mia bibbia come quella di molti apicoltori è apicoltura tecnica e pratica di pistoia ma in questo periodo ho deciso di approfondire di più la mia la mia conoscenza su questo mondo sulla apicoltura cercando di approfondire ogni settore di mano in mano che andrò a snocciolare diversi libri ma bando alle ciance andiamo subito alla recensione del libro eccoci qua ragazzi allora vi faccio la recensione del libro anche perché per il 2022 uno dei miei obiettivi è quello di leggere di più perché mi dispiace dirlo ma secondo me sono uno che non legge molto e questo è un mio difetto che cercherò di correggere lungo quest'anno nella mia vita avrò letto una sessantina di libri secondo me sono molto pochi vedo che chi ha successo nella vita brucia libri come se non ci fosse un domani quindi per quest'anno mi sono fissato di leggere almeno sei libri che non sono pochi per me visto che sono 10 per cento di quelli che ho letto in tutta la mia vita e di cominciare così a distruirmi e ad approfondire un po di più la mia conoscenza sul mondo dell'apicoltura allora questo libro scritto da padre adam per chi non lo sapesse padre adam è il capostipite dell'apicoltura moderna è un apicoltore molto noto soprattutto perché è il progenitore della della razza di ape bookfast e diciamo che ha fatto apicoltura per quasi 90 anni è morto nel 96 quindi non è non sono teorie così datate come si può pensare ha svolto quasi un secolo di lavoro sulla selezione sul campo della selezione delle delle api da miele e per questo è tra l'ambiente apistico uno dei maggiori illustri apicoltori a livello mondiale allora il libro praticamente si divide in tre parti la prima parte è quella che parla un po della teoria che è alla base della selezione genetica si parla della possibilità di fare incroci tra razze di api diverse e di come cercare di attirare il massimo beneficio possibile tenendo conto che l'ape da miele è l'unico animale ad avere un metodo riproduttivo assolutamente e completamente diverso da qualsiasi altro tipo di animale da allevamento quindi con questi con queste premesse il libro comincia a sviluppare un discorso su come si potrebbe tentare diversi incroci tra le diverse razze per cercare di avere una qualità dell'ape che possa far fronte alle esigenze odierne la seconda parte del libro invece parla delle possibilità pratiche che ci possono essere facendo selezione quindi in buona sostanza si cominciano ad elencare i caratteri essenziali e secondari per produrre una qualità di ape che sia produttiva e che porti il meno dispendio di lavoro da parte dell'apicoltore quindi le caratteristiche principali sono la bassa propensione alla sciamatura la laboriosità e la produttività e soprattutto anche la resistenza alle malattie come caratteristiche secondarie invece ci sono ad esempio la lunghezza della ligula la forza delle ali la parsimonia ad esempio la docilità nella terza parte del libro invece si parla più che altro si fa un elenco delle diverse razze di api di amiele che ci sono sparse per tutto il mondo elencandone le diverse caratteristiche non sto qui a sottolinearvi il fatto che la nostra ape ligustica è senza ombra di dubbio una delle migliori api che troviamo in circolazione sia per produttività sia per docilità e sia anche per adattamento all'ambiente esterno quindi ragazzi abbiamo tra le mani una delle api migliori in assoluto e giusto per questo dobbiamo essere soddisfatti di quello che abbiamo senza andare a comprare api diverse da quella che già ci fornisce il nostro territorio parlando di questo libro volevo fare una precisazione che secondo me non è superficiale perché nel campo dell'apicoltura si parla molto spesso di ibridazione secondo me in modo sbagliato un ibrido per definizione è un esemplare che proviene da due razze diverse che però ha una particolarità che è il fatto di non essere più fertile l'ibrido per definizione non si può riprodurre un esempio classico di ibrido è il mulo infatti questo deriva dall'incrocio tra asino e cavallo e come sappiamo il mulo non ha possibilità di riprodursi quindi se abbiamo necessità di avere muli dobbiamo continuamente produrli nell'apicoltura invece non possiamo parlare di ibridi perché i diversi incroci fra le razze di api che ci sono stati lunghi secoli hanno sempre portato ad esemplari fertili e riproduttivi il problema dell'apicoltura di base sono sempre stati gli incroci casuali che hanno portato alle selezioni delle razze che abbiamo oggi e gli incroci casuali che invece oggi portano ad avere problemi di difficoltà gestionale delle nostre api e delle nostre attività apistiche quindi come conclusione questo libro è un libricino che si legge bene perché non è molto spesso a poche pagine parliamo di 200 pagine quindi si legge bene abbastanza scorrevole a volte entra molto nel dettaglio con termini un po particolari un po difficili per chi non è consono alla alla biologia e alla riproduzione degli animali e dei vegetali ma che comunque non va mai nell'atto pratico di come fare a selezionare le vostre api e regine di come si opera sulla selezione manuale del nel campo dell'apicoltura forse anche perché al giorno d'oggi è una pratica che è diventata quasi impossibile perché si fa sempre più fatica a trovare areali isolati si fa sempre più fatica avere delle razze pure da cui partire e per questo motivo insomma questo libro ci può dare le basi per capire come si potrebbe operare e quali sarebbero le caratteristiche da ricercare in un'ape regina dei nostri alveari ma non ci da assolutamente lo strumento per metterle in pratica ecco ragazzi per questo video ancora è tutto io vi ringrazio nuovamente vi ricordo di iscrivervi al canale e di mettere un bel like al video se vi è piaciuto io vi saluto ci vediamo alla prossima ciao ciao ciao